buongiorno e benvenuti al mio bootcamp di impaginazione tesine dove vi darò una mano a impaginare la vostra tesina in maniera efficace in modo che sia leggibile e attraente utilizzando software di lattura professionale ma gratuiti se infatti il contenuto è la parte più importante della vostra ricerca la forma è fondamentale per veicolarla nella maniera giusta il bootcamp che letteralmente significa campo di addestramento si suddividerà in quattro giornate virtuali dove voi entrerete con nozioni di base minime forse nulle e uscirete con abilità da ninja abilità che vi serviranno anche in futuro infatti che si tratti di un esame o di una tesi di fine ciclo delle medie delle superiori di esami o tesi di laurea o di dottorato di ricerca tutte le nozioni che acquisirete in questo bootcamp saranno utili per queste condizioni ma ora bando alle ciance andiamo vedere nel dettaglio cosa succederà in questi quattro giorni di bootcamp ecco il ricco programma del nostro bootcamp il primo giorno vi fornirò nozioni minime dal punto di vista organizzativo cioè come si struttura il lavoro come si gestisce il materiale si parla di grafica insomma tutto quello che serve per prepararsi al secondo giorno lì daremo applicazione pratica alle cose imparate ossia impagineremo il testo con un software work processo il terzo giorno invece si parlerà di grafica avanzata o meglio vi darò delle dritte con positive tecniche per migliorare l'aspetto visivo del lavoro ad esempio lì si creerà una copertina creeremo una mappa e qualche altro elaborato grafico il quarto giorno invece si cambia registro la presentazione al pubblico o meglio come si utilizza il lavoro e materiale creato per presentare la vostra tesina in maniera efficace ecco questo è il programma ricordo che sotto i miei video lascio sempre la possibilità di postare commenti vi anticipo che non riuscirò a rispondere lì a quesiti di carattere tecnico mentre i miei studenti sanno come contattarmi in maniera diretta ma potete utilizzare i commenti per chiedere dare consigli tra di voi suggerire siti e così via l'unico limite come sempre è l'educazione bene l'intro è terminata possiamo quindi dare ufficialmente il via al primo giorno